Venerdì 3 marzo alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone di Fano si presenta il rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà, Sussidiarietà e Sviluppo Sociale. Ne parliamo con Antonio Cencioni, presidente del Centro Culturale Munier. Che cosa emerge da questo studio? Diciamo innanzitutto che quando parliamo di sussidiarietà si intende un criterio antropologico, cioè vuol dire di concezione della persona e di conseguenza è un criterio di organizzazione sociale perché partendo dalla concezione della persona suggerisce una modalità di organizzazione della vita associativa, sociale e civile. Il rapporto realizzato con l'Istat dimostra che la cultura a sussidiare i soggetti che ne fanno parte contribuiscono al benessere collettivo e al bene comune. Quindi partecipare ad attività sociali di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio della povertà. L'analisi statistica è stata condotta con indicatori appropriati e misura la correlazione tra il sentimento di apertura e di fiducia della persona e la partecipazione ad attività sussidiarie e la conseguenza che ne ha nello sviluppo sociale. Tendenzialmente questo si è sempre rilevato nel terzo settore. Oggi anche settori come l'economia o l'organizzazione civile della società, lo Stato e l'organizzazione sociale non possono più fare a meno della cultura sussidiaria per far sì che tutti anche gli indicatori che l'agenda dell'ONU 2030 mette come obiettivi principali sia possibile raggiungerli.